salve mi trovo sulla mia casa di notte per farvi vedere questo problema sono almeno dieci giorni che non riusciamo a risolvere questo problema questa è un'antenna per internet via wifi ecco se non sbaglio si chiama il sistema w w a una cosa del genere c'è stato un tuone con lampo si è creato un problemino sul alimentatore che abbiamo sostituito adesso prima non funzionava nulla adesso è ripestirata questa condizione sono le due lucette le due luci ec due led quelli verdi che accendono però non vedo quella rossa non c'è nessuna connessione il tecnico mi dice che non legge l'antenna nel senso che non è collegata al sistema quindi secondo qualcuno potrebbe essere l'antenna il cavetto credo di no perché l'ho provata la parte bassa e sempre si accendono le due luci escludere il cavetto quello quello nero che collegato con il cavo rj45 ecco quindi non so perché adesso non si connetta al sistema se qualcuno ne sa qualcosa per favore perché la volta scorsa tre settimane adesso sono quasi più di quasi 12 giorni senza internet la sto calando col cellulare mi connetto al mio computer con otti spot in cosa del genere ma comunque il disagio si fa sentire se qualcuno mi sa dire qualche cosa così magari cerco di capirci qualche cosa io che devo fare